amici di bb sportivo benvenuti anche per questa settimana con le notizie dal mondo dello sport consegnati collari d'oro del magico 2021 dello sport italiano presente il premier draghi continuate a stupirci malagò stagione storica secondi al mondo dietro gli stati uniti d'america un anno indimenticabile come i numeri che l'hanno caratterizzato come le emozioni che ha regalato il 2021 dello sport italiano è una diapositiva consegnata alla storia mai tante medaglie olimpiche 40 a certificare la missione a cinque cerchi più munifica di sempre 69 podi paralimpici è un percorso impreziosito da un percorso che tra mondiali ed europei ha saputo hissare il tricolore lassù sul tetto del movimento internazionale un momento di riunione e unione nel segno della vittoria dell'eccellenza declinata attraverso le componenti che contribuiscono a tradurre in successo una scuola tecnica da sempre punto di riferimento ad ogni latitudine la cerimonia è stata onorata dalla partecipazione del presidente del consiglio mario draghi sul palco erano presenti il presidente del coni giovanni malagò il sottosegretario con delega allo sport valentina vezzali e il presidente del comitato italiano paralimpico luca pancalli sincero e commosso il discorso del premier draghi attributare l'ovazione ai protagonisti che hanno riempito di contenuti l'anno magico il presidente del coni giovanni malagò ha rivelato il dato complessivo legato ai successi del 2021 a livello mondiale rappresentando l'orgoglio di tutto il movimento per lo spessore dei risultati conseguiti e di lavoro internazionale di interazione tra tutte le componenti in nome di un senso di appartenenza che fa la differenza sono felice un anno straordinario come mai successo il presidente del chip luca pancalli ha espresso un analogo risentimento di riconoscenza grazie al premier mario draghi per aver presenziato a questa festa dei nostri atleti il patrimonio più prezioso che abbiamo siamo due facce della stessa medaglia e un grazie a tutti i volontari e alle persone che rendono grande il movimento con passione ringrazio federazione corpi militari e tutti gli organismi lo sport non è solo medaglie ma rivoluzione culturale modo e strumento per cambiare il paese in meglio il sottosegretario di stato con delega allo sport valentina vezzali ha rappresentato la felicità personale e governativa per un anno strepitoso è una giornata speciale sono onorata della presenza del premier mario draghi grazie a tutte le federazioni che mandano avanti oltre 110 mila associazioni e poi mandano gli atleti ai giochi sport è base e vertice per questo diventa fondamentale farlo camminando a braccetto con la scuola sono sicuro che il presidente dei raghi ne terrà conto pugilato irma testa incontra il papa papa francesco e allena i bambini sport senza frontiere un tour di emozioni e sinergia che è iniziato nell'auletta paolo sesto dove la prima pugile donna italiana che ha partecipato e conquistato la medaglia olimpica ha incontrato papa francesco in occasione dell'udienza privata con gli artisti partecipanti alla 29esima edizione del concerto di metale in vaticano accompagnata dal coordinatore sport per l'italia di scolas mario del verme irma a stretta la mano a papa francesco che con l'umanità di sempre che lo contraddistinguono si è messo in guardia di fronte alla straordinaria medaglia di bronzo di tokyo 2020 per portare sul palco un messaggio di solidarietà a favore di tutti quei bambini haitiani che come lei provengono da un contesto difficile e per giunta devastato non solo dalla criminalità ma anche da calamità naturali il malo testimonia gran voce non bisogna mai mollare e credere nei propri sogni e trovare il coraggio di affrontare anche la paura di essere sbagliati un messaggio di speranza che l'atleta del gruppo sportivo delle fiamme oro ha portato anche ai numerosi bambini e ragazzi che hanno preso parte all'evento organizzato da sport senza frontiere onlus social partner della fpi per il progetto solidale educativo un sorriso per lo sport ideato e promosso da sport senza frontiere è scelto e sostenuto da amazon alla campagna solidale si potrà contribuire donando uno dei prodotti della wish list creata da sport senza frontieri su amazon.it taekwondo i campionati delle forme e del freestyle regalano spettacolo ad arezzo campionati di punzae e freestyle di taekwondo e para taekwondo del 2021 nella bellissima cornice del palasport extra le caselle mario d'agata di arezzo nella prima giornata che si è rivelata come da previsioni iniziali spettacolare dinamica e coinvolgente con tantissimi atleti in gara a contendersi il titolo nelle diverse categorie se le forme rievocano le origini del taekwondo con i movimenti codificati che premino la fedeltà dei movimenti rispetto ad un modello ideale di esecuzione il freestyle lascia ampio spazio all'estro coreografico del performance pur richiedendo elevatissimi livelli di padronanza tecnica e abilità stilistica complimenti sinceri al comitato regionale fita toscana rappresentata dal presidente domenico mazzocca e alle istituzioni locali per aver contribuito nel migliore dei modi alla buona riuscita dell'evento un ringraziamento speciale va inoltre a tutto lo staff di volontari per l'organizzazione in sicurezza e con tutti il rispetto di tutte le misure preventive in vigore di questa bellissima competizione che si è rivelata un successo aprendo la strada a tutti gli atleti che inseguono il sogno di entrare a far parte un giorno del gruppo di atleti della nazionale italiana passiamo al judo campionato italiano assoluto di judo ritorna nel palapelicone di ostia il campionato italiano assoluto di judo campionato assoluto di ripartenza ribadisce laura di toma titolare della direzione tecnica nazionale e sicuramente una vetrina per molti giovani atleti desiderosi di mettersi in mostra anche se la gara in realtà rischia di essere ancora condizionata dalla situazione pandemica presenti 464 per quanto riguarda gli atleti e 162 per le società sportive rappresentate è l'anno magico delle fiamme oro e la classifica maschile lo ha ribadito è stato un assoluto ricco di emozioni e colpi di scena che hanno espresso così la risposta degli atleti finalmente liberi di esprimersi è andata benissimo avevamo cinque atleti quattro primi posti ed un secondo tornando dopo 21 anni al gruppo sportivo delle fiamme gialle penso sia la cosa più bella vincere il titolo assoluto femminile grazie la descrive così salvatore ferro coach delle fiamme gialle karate la fisica nella persona del suo presidente dottor domenico falcone ha sancito l'ottavo dan al maestro santo torre di catania una serie di novità costellano la carriera del maestro torre in quanto scorcio di fine 2020 in questo scorcio di fine 2021 oltre all'ambito diploma di grado diviene responsabile unico in italia per la shotokan e componente della commissione insegnanti tecnici fisica come si dice un vero maestro ha molti difetti un finto maestro non ne ha neppure uno calendario lucca boxing night titolo leggeri marvin de mollare o asta ben coricci lucca pala tagliate 26 dicembre organizzazione buccioni boxing team e per questo è tutto la redazione di samurai e vivi sportivo vi augura le più serene festività all'appuntamento alla prossima settimana